Oggi tutto il mondo è Commonwealth, noi siamo tutti colonizzati dal sistema delle banche centrali, noi siamo delle colonie e diceva Goethe, una battuta molto significativa, diceva nessuno è più schiavo di chi non si accorge di esserlo e si illude di essere libero. Questa è l'illusione che ha ogni cittadino quando c'è i soldi in tasca, noi ci illudiamo che i soldi che abbiamo in tasca sono nostri.